Con il capitano Danilo oggi una partita che come all'andata si era messa male con il gol del vantaggio, poi è una grande reazione dell'Udinese. Sì, sicuramente non era una partita facile. Diciamo che queste due settimane erano delle partite un po' strane. Sulla carta sembra una partita facile, ma in Serie A non ci sono partite facili. Penso che come l'Empoli ha giocato prima di noi, l'Empoli e l'Napoli, con quel risultato il Palermo era più carico che mai. Penso che il gol di Serie A è stato veramente un momento giusto. Se l'amandata è spoliatore, il mister ha messo con la cucina posto. Dopo il secondo tempo abbiamo fatto un secondo tempo alla grande come l'abbiamo fatto contro l'Aventus. Un secondo tempo alla grande e si è proprio caricato anche un po' sulle spalle in tutti i sensi la squadra. Dovan Zapata, è uscito Terò, è stato lui a creare un po' tutte le azioni da gol. Oggi è stato davvero fondamentale per la vittoria, come in altre occasioni. Tante occasioni, non? Per me, secondo me, Zapata era troppo criticato, ma diciamo che in esploratoio, in allenamento. Diciamo così, io che sono defensore, lui dà troppo fastidio, perché lui è grosso, è veloce. Penso che dopo che lui è segnato contro la Juventus, veramente è andato via quella, non lo so come si dice in italiano, ma è scossa così e adesso lui è motivato. Adesso è chiamato pure nazionale, quindi penso che sta vivendo un buon momento, ma anche l'Udinese vive un buon momento. Un buon momento da continuare ovviamente. Oggi anche grandi risposte da tutti i difensori. Angela che magari ha giocato di meno, si è confermato ancora una volta. È rientrato bene Ertò, ha anche sfiorato il gol. Widmer è stato posizionato a sinistra, ha fatto comunque un buon compito. è un'Udinese che si adatta a ogni tipo di soluzione. Diciamo che quando c'è un ambiente positivo, quando tu riesci a fare una buona partita, è più facile che entra un portiere, che entra un difensore, perché alla fine la nostra difesa è stata con Thomas a destra e Widmer a sinistra. Diciamo così che neanche allenamento abbiamo provato così, ma se sei così concentrato, c'è uno stadio che va insieme con la squadra, diventa più facile. Grazie mille Danilo, ancora complimenti.